Tre appuntamenti per ripercorrere gli eventi della storia patria attraverso le memorie delle forze armate. Torna all'Aquila l'ottava edizione delle giornate di storia delle forze armate italiane organizzata dall'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea e dall'Associazione Culturale Vox Milizie. Il 18-19-24 settembre tre i temi che verranno trattati l'Italia nei Balcani, l'Italia della legalità e a chiudere una giornata di ricordo dei nove martiri aquilani. Tanti gli appuntamenti come spiega il generale Raffaele Suffoletta. Abbiamo due sezioni, la sezione storica e la sezione moderna. Abbiamo una prima sezione storica storiografica in cui presentiamo il volume di Maria Teresa Giusti ed Elena Garossi la guerra nei Balcani una guerra dimenticata. Abbiamo la presentazione e un riconoscimento il premio Cefalonia al generale dei Carabinieri Umberto Rocca, medagliatore al valore militare che ha combattuto alle dipendenze del generale della Chiesa le Brigate Rosse. Durante un conflitto a fuoco con le stesse fu ferito, perse un braccio ed un occhio. L'apertura della tre giorni vede una presenza esclusiva con Ernesto Galli della Loggia il 18 settembre alla biblioteca provinciale in località Bazzano. Ci sarà Ernesto Galli della Loggia che presenzierà alla giornata storiografica nella presentazione del libro sulla ricerca storica di Elena Garossi e Maria Teresa Giusti. La chiusura il 24 settembre è una mattinata di memoria per i nove martiri aquilani. Si parte dall'istituto Elena di Savoia verso Colle Brincioni, luogo dell'Eccidio. La commemorazione sarà alla Madonna Fore e alle 12 onore ai caduti alla Caserma Pasquali.